Musica Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Confcommercio Notizie. L'associazione provinciale dettaglianti tessili abbigliamento di Confcommercio chiede alla regione per mezzo di Federmoda Veneto di modificare la norma su saldi e vendite di liquidazione a tutela degli operatori corretti che rispettano le regole. L'annuncio l'ha dato il presidente provinciale di Federmoda Matteo Garzaro durante l'assemblea di categoria tenutasi nei giorni scorsi. Dopo aver illustrato l'attività sindacale messa in campo nel 2014, nella sua relazione Matteo Garzaro è andato subito al punto. Proprio nei giorni scorsi, ha affermato il presidente dei commercianti di abbigliamento Vicentini, abbiamo scritto una lettera a Federmoda Veneto per sollecitare un intervento normativo della regione che sanzioni una volta per tutte la pratica scorretta di anticipare i saldi attraverso l'utilizzo della card e l'invio di sms, email, messaggi su social. Ma l'associazione Vicentina non si è fermata qui. Sì, abbiamo chiesto anche, ha continuato, che vengano cambiate le regole delle vendite di liquidazione totale per i nuovi locali che purtroppo spesso sono un bel trucchetto per aggirare il blocco delle promozioni nei 30 giorni presaldo. Vogliamo che d'ora in poi l'obbligo di chiusura dopo la vendita sia di tre settimane anziché una e che il periodo di svolgimento della liquidazione sia di quattro settimane anziché le abituali sei. Credo, ha sottolineato Garzaro, che con questi nuovi limiti molti furbetti la finiranno di giocare sul filo delle regole. Massimo Torti di Federmoda Nazionale, che ha partecipato all'Assemblea dopo aver sottolineato il ruolo di stimolo che l'associazione Vicentina riveste a livello nazionale, non ha mancato di tracciare un quadro difficile della situazione del dettaglio moda. Nei primi nove mesi del 2014 per ogni nuova apertura del nostro settore si sono registrate due chiusure e anche se i saldi qualche segnale positivo lo hanno dato, è difficile che con il trend attuale si recuperino i cali dei mesi scorsi. Adepimenti Sistri, ecco le novità dopo la pubblicazione del decreto 1000 proroghe 2015. Ne parliamo con Susanna Corato dell'Ufficio Sicurezza ed Ambiente di Confcommercio Vicenza. Con il decreto 1000 proroghe 2015 ci sono state delle nuove proroghe per quanto riguarda il Sistri. Le aziende devono essere suddivise in due gruppi. Le aziende con più di 10 addetti e produttrice di rifiuti pericolosi hanno avuto una proroga fino al 31 dicembre 2015 sull'utilizzo del Sistri, mentre entro il 31 gennaio sempre 2015 devono verificare di aver pagato i diritti annuali Sistri. Nel frattempo continuano nella tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari e della presentazione del MUD entro il 30 aprile 2015. Le aziende con meno di 10 addetti e produttrici di rifiuti pericolosi sono state escluse dal Sistri, continuano ad essere escluse, quindi è importante che continuino nella tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari e della presentazione del MUD entro il 30 aprile 2015. In questo momento cosa devono fare? Verificare di essersi cancellate, perché se non l'hanno fatto rimangono in carico al Sistri e il Sistri chiede il pagamento dei diritti di segreteria. Quindi è importante che le nostre aziende ci contattino per verificare appunto la situazione e se non si sono cancellate procedano entro il 31 gennaio 2015 alla cancellazione del Sistri. Il Commercio Vicenza con l'ufficio Ambiente è a disposizione per la consulenza, per l'assistenza, per la compilazione dei registri, la presentazione del MUD e per le aziende che avessero bisogno, quindi anche attraverso ESAC Formazione, per la formazione, quindi i corsi in merito all'utilizzo del Sistri. Dopo più di un anno nulla è cambiato da quel 25 novembre 2013 quando un auto articolato andò a sbattere contro due travi del ponte autostradale che scavalca la riviera berica nei pressi di Campedello. Da allora chi transita in uno dei punti certamente più trafficati della viabilità cittadina deve affrontare un notevole restringimento di carreggiata sotto il cavalcavia, segnalato da cartelli e delimitatori. Tutto lì fermo da ben 14 mesi nonostante i continui solleciti di commercianti dei residenti della zona e le lettere tra Comune di Vicenza e l'autostrada Brescia-Padova competente dell'esecuzione dei lavori. La pazienza è terminata, non si può più lasciare uno dei punti nevralgici della città in queste condizioni, afferma Massimo Furegon, presidente della sezione 2 Confcommercio. Non è solo una questione di disagio della circolazione ma anche il decoro. Chi passa di qui ha come la sensazione di essere in un luogo abbandonato a se stesso, senza considerare poi gli aspetti legati alla sicurezza perché quel restringimento sotto il cavalcavia ha davvero misure risicate con i mezzi che al passaggio si sfiorano. È incredibile che dopo tutto questo tempo non si abbia più nessuna notizia su quando verranno eseguiti i lavori. Eppure si era parlato di un possibile appalto entro settembre 2014. Da qui l'ennesima presa di posizione dei commercianti della zona, oramai esasperati da una situazione davvero paradossale. Al via la rassegna enogastronomica dedicata al rampussolo di Villaga, un'erbetta spontanea che grazie all'opera di promozione del comune sta sviluppando l'economia del paese. Le interviste al sindaco Eugenio Gonzato e alla ristoratrice Barbara Zanellato. Sapevamo già all'inizio di puntare sul prodotto che ha diverso valore aggiunto perché è un prodotto che costa e pensavamo e speravamo appunto che coltivare questo prodotto avrebbe aiutato molto l'economia locale. In effetti è così, abbiamo già 5 produttori che coltivano 5 quintali di rampuzzolo all'anno. È un'erbetta ricca di sali minerali ed è molto apprezzata dai clienti che pian piano la stanno riscoprendo. Infatti è un'erbetta che ultimamente è molto rinomata, ha un certo costo ma c'è anche un motivo. Dopo averlo acquistato, raccolto, c'è tutto un lavoro di pulizia che forse qualcuno non sa. Se volete vi faccio vedere come si pulisce un rampuzzolo. Allora si deve prendere una radice, ecco qua prendiamo questa qua, si deve incidere la pellicina bianca fino in fondo e poi con le unghie pian pianino si toglie tutta la buccia. Una volta che si è tolta la buccia deve essere lavata 2-3 volte e poi pronta per il consumo sia cotto che crudo. Da 5 anni c'è la rassegna enogastronomica qui a Villaga dedicata appunto al rampuzzolo. Com'è che lo proponete? Allora noi lo proponiamo sia cotto che crudo, cotto lo facciamo risotto, la pasta, proponiamo degli antipasti col formaggio fuso oppure abbinato anche col salami ferri che viene servito in questo caso crudo condito con il lardo e aceto. Lo proponiamo nei secondi anche come con la tagliata ce lo mettiamo sopra cotto che dà un sapore particolare. Proponiamo anche dei dolci, si possono fare le frittelle, abbiamo proposto anche una torta farcita con la zucca caramellata sempre fatta con il rampuzzolo, il PAN di Spagna ha fatto con il rampuzzolo e abbiamo visto che ha avuto un grande successo. Salute e benessere al centro degli incontri del mercoledì organizzati dalla 50 e più Confcommercio di Vicenza in collaborazione con l'ULS6. Il primo degli appuntamenti gratuiti è in programma il 28 gennaio. Ne parliamo con il presidente provinciale della 50 e più Fiorenzo Marcato. Da parecchi anni organizziamo questi incontri sul tema della salute e del benessere, infatti quest'anno gli incontri del mercoledì hanno sottotitolo salute e benessere. Perché questo? Perché gli anziani sono sempre di più, dalle indagini fatte anche dal census di over 65 sono in aumento. Questo tipo di realtà induce anche le associazioni a offrire a queste persone degli ausili che possono servire per la loro salute e logicamente anche per il loro benessere. Gli incontri quest'anno sono quattro. Abbiamo ad esempio un incontro sul post-menopausa, un incontro sulle disfunzioni dell'equilibrio, abbiamo un incontro sulle malattie infettive e sulla dermatologia nelle persone adulte. E' da ricordare che questi incontri vengono realizzati in collaborazione con l'ULS6. Possono partecipare non solo soci ma anche simpatizzanti, amici, diciamo la comunità tutta. Ed ora alcune proposte formative. ESEC Formazione propone in orario serale dal 3 al 24 febbraio il corso di Personal Branding e valorizzazione del punto vendita per conoscere, sviluppare e promuovere il proprio marchio. Dal 2 al 18 febbraio ESEC Formazione propone invece, sempre in serata, il corso di gestione del magazzino per dettaglianti, per organizzare efficacemente un magazzino dal punto di vista della logistica e della continuità di vendita. L'Università del Gusto propone il corso di alta pasticceria dedicato al cioccolato e alle praline con il maestro Diego Crosara. Si tratta di un corso pratico con degustazioni. Il 4 febbraio invece una serata dedicata al menù di San Valentino, un corso di alto livello per preparare piatti di grande effetto per la festa degli innamorati. Ed ora l'agenda. Lunedì alle 14 consiglio del direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica della 50 e più. Alle 20 e 30 consiglio della Delegazione Comunale di Arzignano. Alle 20 e 45 assemblea della Delegazione Comunale di Creazzo. Mercoledì alle 15 gli incontri del mercoledì della 50 e più sul tema Salute e Benessere post-menopausa. Alle 18 e 30 incontro del gruppo Macelleria del Gusto. Giovedì alle 9 consiglio direttivo dell'Asso Green. Alle 14 e 30 consiglio della Delegazione Comunale di Montechio Maggiore. Alle 19 consiglio dell'Associazione Provinciale Macchine, Attrezzi Agricoli e Boschivi. Per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti.